3, 2, 1 Ciao a tutti e bentornati sul mio canale come potete vedere alla mia sinistra oggi sarà un video unboxing lego costruiremo due monster jam non so se lo conoscete è un programma americano molto famoso in America almeno ma anche in Europa dove dei fuoristrada giganti percorrono un percorso pieno di ostacoli e di dune per fare salti, capriole questi sono due dei monster jam che hanno vinto di più per chi non lo sapesse vi faccio una breve introduzione di cosa sono i monster jam americani questo qui è Gravy Digger invece questo qui è Max D Nel video di oggi ne andremo a costruire e poi proveremo a eleggere chi almeno tra i legotecni che esulterà il vincente come velocità e come best salto in lunghezza ho la pelle d'oca non vedo l'ora di fargli fare tutte le acrobazie possibili ho aperto la scatola qui ci sono le gomme questo è il motore pullback che è a carica qua ci sono gli adegivi e lì ci sono tutti i pezzi da costruire non vedo l'ora di fargli guardate sono a metà sono a pagina 34 ne ho ancora altre 30 da finire per costruirlo non vedo l'ora di fargli tadaaa dopo circa un'ora ce l'abbiamo fatta guardate che bello e tra l'altro come dicevo prima il motore a carica guardate ora non ci rimane che costruire Max D così dopo eleggeremo il best monster jam della Lego Technic le prove saranno due come vi anticipavo prima una di velocità e l'altra invece sarà il salto acrobatico non vedo l'ora di sapere chi farà il salto più lungo e soprattutto chi sarà più integra delle due dopo il salto procediamo con l'apertura prima di iniziare quasi dimenticavo ho aperto due gruppi Telegram in cui inserisco le offerte e il link coupon sconto derivanti dal mio canale e anche le offerte a tempo Amazon inerenti a tecnologia ossia cellulari tablet computer fotocamere action cam ve li ho linkati tutte e due in descrizione per cui se volete risparmiare sui Lego o sulla tecnologia entrate pure tanto è accesso libero e ogni giorno potrete vedere le offerte migliori detto questo procediamo con la costruzione inerenti a Ancora una ventina di pagine e poi finalmente ci siamo e abbiamo finito anche max d mi piace da matti perché sono bellissimi questi spuncioni che ha sia nella parte interiore che posteriore guardate i bolidi sono pronti e adesso andiamo fuori per la mega sfida questo è il salto che ho preparato qui vedete anche il metro perché dopo misero occhi tra le due monster gen fra il salto più lungo i bolidi sono pronti a partire questo è il rettilineo che ho preparato posizionato 5 telecamere una è quella che sto tenendo in mano due laterali questa che prenderà l'inquadratura frontale e questa qua che come vedete l'ho posizionata sopra la linea del traguardo per fare l'effetto foto finish giusto perché noi ci piace fare le cose in grande 321 ha fatto un salto di 88 centimetri quasi un metro non male adesso invece vediamo quanto farà gravi digger 90 centimetri incredibile gravi digger ha vinto di solo due centimetri con anche il surplus di atterrare in piedi che non è poco telecamera fissata guardate adesso facciamo il salto così vedremo quello che vede lui durante l'acrobazia spero che la sfida vi sia piaciuta io mi sono divertito tantissimo tra l'altro ve li consiglio costano pochissimo gli ho pagati 19 euro 80 vi ho lasciato il link in descrizione prima di salutarvi però vi do un'anticipazione il prossimo video che pubblicherò sarà la mia nuova postazione green screen l'avevo anticipata nell'ultimo video unboxing se non l'avete visto andatelo vedere l'ho quasi finita così se siete curiosi o magari in futuro ne vorrete creare uno anche voi per fare dei video mi sono registrato passo passo così lo potete usare anche come esempio per costruirne una non ho neanche speso tantissimo per i materiali comunque dovrebbe uscire fra 3-4 giorni non dimenticatevi di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo il video mettete like un saluto da kakashi gravi digger max di e luca tache ci vediamo al prossimo video no 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 no